Sì, sì, quasi. E a casa tutto a posto? Che c'è qualcosa che non va? No. Lei mi ha fatto un contratto per una casa che è occupata. Lo sapeva, vero? Dove vado io a dormire stasera? Ah? Dove vado io a dormire? Almeno, dimmi come sono fatti. Erano tutti truccati, vestiti... Trans. Allora sono trans. Sto andando a fare un provino. Ma perché tu fai l'attore? Ci prova. E vabbè, in bocca al lupo allora. Ma veramente? Allora, a lei mi serve questa lettera di sfratto? Le hai visti di nuovo? Questa è casa mia, sono la mia vasca. Siete voi che dovreste andare via, ma anche proprio di casa? Adesso il signore ci aiuterà ad uscire di qui, vero? Qual è il piano? Che li ha aiutati, è stato torturato e ucciso. La menzogna alle volte può essere convincente, la realtà lo è molto di più. Queste persone che dice di vedere a casa sua, cosa fanno? E' così buio quel parco che ci si vede solo con le dita. E' un sesso braille. Ma perché non glielo dice? Perché non gli dice la verità? Senta Pietro, in che anno siamo? E gli italiani sono liberi? Liberi, liberi, proprio... E' come se non mi riconoscessi. Non mi sembro io. Perfetto. Lei deve sparire.